Buongiorno ragazzi, oggi vedremo insieme cosa è stata la guerra del Peloponneso e qual è stata la sua importanza per il mondo delle polis greche. Iniziamo la lezione con un breve video che ho preso dalla versione digitale del vostro manuale di storia. È un breve video introduttivo all'argomento che stiamo per studiare e che soprattutto ci permette di collocare nello spazio gli eventi di cui parleremo tra poco. Buon ascolto! Dopo la seconda guerra persiana, Atene trasforma la lega di Delo in uno strumento di controllo sulle città ufficialmente le sue alleate. La sua politica estera punta a contrastare le mire espansionistiche di Sparta, che controlla le città della lega peloponnesiaca. Lo scontro si accende quando Atene interviene negli affari di alcune città legate a Sparta, come Corinto e Megara, e si trasforma in guerra aperta nel 431 avanti Cristo. Alcune poleis rimangono estranee al conflitto, scegliendo la neutralità. Ma le città della Macedonia e molte importanti colonie della Magna Grecia e della Sicilia finiscono per schierarsi con uno o l'altro dei due contendenti. La guerra del Peloponneso, dunque, coinvolge larga parte del mondo ellenico. Come vedete, anche in questa mappa, le domande sono più o meno sempre le stesse. Allora, al centro posto l'argomento di cui parleremo, appunto la guerra del Peloponneso, che è stata combattuta. Da un lato c'era Atene, a capo della Lega di Delo, di cui vi dovreste ricordare. E come avete visto anche nella mappa animata di poco fa, la Lega di Delo era caratterizzata soprattutto, da un punto di vista geografico, per la sua forte presenza sul mare Geo, quindi erano soprattutto polis costiere o polis delle isole. Mentre dall'altra parte c'era Sparta, a capo della Lega del Peloponneso, che invece, lo dice il nome stesso, era presente soprattutto sulla terraferma e in particolar modo nella penisola del Peloponneso. Peloponneso. Le date precise non sono importanti, ricordiamoci che siamo alla fine del V secolo. Se vi ricordate il V secolo, quando abbiamo parlato di Atene, e in particolar modo del periodo di Pericle, è definito anche il secolo d'oro o l'età d'oro del mondo greco, per l'architettura, per la cultura, le scienze, il teatro, tante cose. Ecco, questo periodo d'oro si conclude nel modo più disastroso e catastrofico possibile, non solo per Atene, come vedremo, ma per tutto il mondo greco. Come abbiamo visto prima, viene combattuta ovviamente, soprattutto in Grecia, ma non solo in Grecia. Ancora una volta, non è corretto parlare tanto di storia della Grecia, quanto di storia dei Greci, perché, come vi ricordate, con le colonie, i Greci avevano popolato buona parte del Mediterraneo centro-orientale. Quindi, come vedremo, uno degli eventi maggiori della guerra del Peloponneso si svolge in Sicilia, e battaglie minori, e comunque sono coinvolte anche le polis dell'Asia minore e della zona dei Dardanelli e del Bosforo. Come sempre, ci dobbiamo interrogare sul perché scoppia la guerra del Peloponneso, quali sono le cause. Allora, da un lato abbiamo Atene, che, se vi ricordate, aveva trasformato la Lega di Delo in uno strumento per la sua espansione, espansione politica, militare, ma soprattutto espansione commerciale. Atene controllava tutte queste città, che facevano parte della Lega di Delo, imponeva dei governi favorevoli ad Atene che lasciassero libero accesso alle navi e ai mercanti ateniesi. E' proprio con questa politica che Atene riesce a finanziare, da un lato, le costruzioni, come i templi e le statue dell'Acropoli, e dall'altro, se vi ricordate, a finanziare la sua stessa democrazia, con gli stipendi per i politici, i rimborsi spese per chi partecipava alle assemblee, e il libero accesso al teatro per il Demos, tutti argomenti che abbiamo già visto con Pericle. D'altro lato c'è Sparta, che se capisce di non poter rivaleggiare con Atene per quel che riguarda il controllo dei mari e delle vie commerciali, forte del suo esercito, della sua falange oplitica, fino a questo momento imbattuta sulla terraferma, vuole espandere sempre di più il suo dominio sulla Grecia continentale. E poi ci sono anche, come terza causa, i diversi orientamenti politici di queste due polis, che poi coinvolgono anche i governi di tutte le polis delle due alleanze. Da un lato, governi democratici, ricordiamoci sempre, democratici con il senso antico del termine, che non è del tutto identico a quello che usiamo oggi, nel XXI secolo, quindi polis governate soprattutto da esponenti del Demos, contrapposte a polis invece con un governo di tipo oligarchico, letteralmente governi di pochi, l'esempio più lampante è quello di Sparta, dominata dal ristretto numero, poche migliaia di spartiati. Allora, il vostro libro si dilunga molto, anche giustamente, sui singoli eventi, le battaglie, i trattati di pace. Ecco, intanto ricordiamoci, dal 431 al 404 non sono tutti anni in interrotti di guerra. La guerra del Peloponneso è articolata in più fasi, con interruzioni, trattati di pace, cambiamenti di alleanze. Ecco, di tutto questo non parleremo, e non pretendo che ve lo ricordiate. In estrema sintesi, inizialmente la guerra va come tutti si aspettavano che sarebbe andata. Sparta prevale sulla terraferma, le falangi di Sparta e delle polis alleate di Sparta invadono l'Attica e arrivano ad assediare Atene. Devastano tutti i territori che circondano Atene, ma non riescono ad espugnare Atene. Per due motivi. Uno è che Atene è una potenza incontrastata sul mare, vince tutte le battaglie navali, e quindi la città di Atene continua a ricevere rifornimenti dal mare. Quindi gli assedi di Sparta si rivelano inutili, dal momento che Atene continua a ricevere uomini, armi, cibo e in generale merci dal mare. Il secondo motivo ve lo dovreste ricordare. Negli anni precedenti Atene, evidentemente prevedendo lo scontro con Sparta, perché era nell'aria ormai da decenni, aveva investito molte risorse in questa faraonica costruzione. Le lunghe mura, cominciate all'epoca di Temistocle, subito dopo le guerre persiane, che collegavano, vedete, la polis di Atene, che distava circa una decina di chilometri dal mare, con il suo porto, il Pireo. Vedete, quindi ovviamente era fortificata Atene, con al centro l'acropoli. Questo era il porto in cui le navi sbarcavano e ripartivano per tutto il mondo mediterraneo. E queste sono le due imponenti mura, una vedete più a nord e l'altra più a sud, che di fatto rendevano Atene praticamente inespugnabile, collegandola al suo porto, come dicevamo prima, nel quale continuavano ad affluire tutte le risorse che servivano per resistere anche a un lungo assedio. Due sono gli eventi che romperanno questo equilibrio. Uno è la peste. Ne parleremo poi in modo più approfondito di questa epidemia di peste, con una lettura di uno storico greco dell'epoca, Tucidide. La peste non colpisce esclusivamente Atene, ma è la polis che ne risente di più. Anche simbolicamente la peste causa la morte di Pericle, che fino alla prima metà della guerra del Peloponneso continua ad essere il leader militare e politico di Atene. Insieme a Pericle ovviamente muoiono migliaia di Atenesi. Il secondo motivo della sconfitta finale di Atene è che Atene a un certo punto cerca di sfruttare la sua superiorità navale, imbastendo una enorme spedizione navale che coinvolge centinaia di navi e decine di migliaia di soldati, per andare a colpire uno degli alleati più forti di Sparta, che non si trovava in Grecia. Si trattava invece di Siracusa, che ovviamente è in Sicilia. Questa spedizione per vari motivi è un disastro totale. La flotta di Atene viene completamente annientata e tutti gli Atenesi vengono uccisi oppure vengono fatti schiavi in Sicilia. E Atene, pur riuscendo a prolungare la guerra per altri anni, perché comunque aveva delle risorse apparentemente infinite grazie ai suoi commerci, non riuscirà più a riprendersi da questi due traumi. E infatti, come termina la guerra? Con la vittoria di Sparta, che addirittura, per farvi capire anche quanto fosse accesa la rivalità tra queste due polis ormai, Sparta negli ultimi anni non esita ad allearsi con i persiani, che fino a pochi decenni fa erano il nemico, gli invasori contro cui tutte le polis avevano fatto fronte comune. Vi ricordate le battaglie delle Termopili, di Salamina, di Platea? Ecco, i persiani, che ovviamente non lo fanno in modo disinteressato di aiutare Sparta, i persiani miravano a riconquistare tutte quelle polis dell'Asia minore, dell'attuale costa turca sul mare Egeo, che facendo parte della Lega di Delo erano alleate di Atene, cosa che Sparta infatti riuscirà a fare alla conclusione della guerra. Ecco, c'è un modo di dire, in realtà coniato molti secoli dopo, per descrivere la situazione delle polis greche alla fine della guerra del Peloponneso. Si diceva che Atene piange, ma Sparta non ride. Atene ovviamente ha la grande sconfitta, perde per definitivamente il suo ruolo egemone, di un po' leader del mondo greco, ma Sparta anche esce abbastanza indebolita dalla guerra del Peloponneso. Vi ricordate gli spartiati, i guerrieri erano molto pochi, e ovviamente ne erano morti tanti nelle numerose battaglie della guerra del Peloponneso. Quindi le due conseguenze, parliamo innanzitutto di una conseguenza immediata, è che Sparta per all'incirca un trentennio diventa la polis più importante di tutta la Grecia. Sparta fa quello che faceva prima Atene all'interno della Lega di Delo, ovvero sia in tutte le città impone dei governi oligarchici, dei governi favorevoli a Sparta, che portano avanti quindi delle politiche filo-spartane. Sparta non riesce a mantenere a lungo questo predominio, un po' per quello che dicevamo prima, un po' perché, se vi ricordate, fin dall'inizio della storia di Sparta che abbiamo studiato alcuni mesi fa, Sparta non poteva permettersi di impegnare troppo a lungo i suoi soldati lontano da Sparta stessa, lontano dalla Messenia, dalla regione, proprio per il timore, se vi ricordate, delle periodiche rivolte che venivano fatte dagli loti, queste sorte di schiavi che coltivavano i campi di proprietà degli spartiati. Quindi il dominio di Sparta sulle polis greche è effimero, di breve durata, e infatti la conseguenza di lungo termine sarà la fine dell'indipendenza delle polis greche, che verranno all'incirca 50 anni dopo la fine della guerra del Peloponneso, siamo a metà, scusate qui c'è un errore, non del III ma del IV secolo a.C., verranno conquistate da quella che è la potenza nascente di questa parte del Mediterraneo, del Mediterraneo orientale, la Macedonia, di cui parleremo nelle prossime lezioni, inizialmente con Filippo II e poi con Alessandro Magno, che conquistano dapprima la Grecia e poi addirittura si lanceranno nella conquista dell'Impero Persiano. Bene, spero che vi sia stato d'aiuto questo schema e il video che abbiamo visto per appunto fissare i concetti principali di quella che è stata la guerra del Peloponneso, quindi cosa è stata, perché è stata combattuta e soprattutto quali sono le conseguenze che, se le dobbiamo riassumere in una singola frase, la guerra del Peloponneso segna il tramonto della civiltà delle polis. Dopo la guerra del Peloponneso, le polis greche, nel giro di pochi decenni, sono destinate ad essere sottomesse da potenze straniere, prima la Macedonia di Filippo e Alessandro Magno e in un secondo momento poi da parte dei Romani. Bene, questo è tutto, buono studio e alla prossima lezione. Arrivederci!